Parano, 41 anni, uccisa dal marito. Anna Carusone, 41 anni, uccisa dal marito. Chen Arizu, 46 anni, uccisa dal marito. Pamela Mastropietro, 18 anni, uccisa e fatta a pezzi da un uomo. Jessica Oro, 19 anni, uccisa dal proprietario della casa in cui viveva. Cristiano Sostano, 29 anni, uccisa dal suo padre. Franco Milardi, 59 anni, uccisa dal marito. Francesca Citi, 40 anni, uccisa dall'ex marito. Federica Aventura, 40 anni, uccisa dal marito. Martina Capasso, 14 anni, uccisa dal padre. Alessia Capasso, 7 anni, uccisa dal padre. Claudia Piani, 82 anni, uccisa dal marito. Vera Saltore, 88 anni, uccisa dal compagno. Benedettino Malandrini, 101 anni, uccisa dal figlio. Marina Cesena, 58 anni, uccisa dal figlio. Paola Paravicini, 88 anni, uccisa dal nipote. Laura Petrolito, 58 anni, uccisa dal compagno. Immacolata Milani, 31 anni, uccisa dall'ex marito. Lena Kinzer, 40 anni, uccisa dal marito. Roletta Felici, 52 anni, uccisa dal compagno. Lucio Sanna Famolito, 67 anni, uccisa dal marito. Angela Coelho, 46 anni, uccisa dal marito. Sara Cima, 25 anni, uccisa dal padre. Valeria Bufo, 55 anni, uccisa dal marito. Monica Gruber, 57 anni, uccisa dal marito. Antonietta Ciancio, 69 anni, uccisa dal marito. Teresa Di Sarchiello, 69 anni, uccisa dal figlio. Marina Paragonelli, 75 anni, uccisa dall'ex marito. Rosa Angela Paragore, 73 anni, uccisa dal fratello. Marina Novo di Loba, 27 anni, uccisa dal marito. Loro di Capilipone, 10 anni, uccisa dal padre. Marina Grini, 51 anni, uccisa dal marito. Silvana Marchioni, 75 anni, uccisa dal marito. Loro di Capilipone, uccisa dal marito. Uccisa dal marito. Maria Grini, 51 anni, uccisa dal marito. investors di PI가 scheggiare loramito.